Qui, zona di bacalà. Fatto, concepito in tutti i modi, wow, la signora che parla, ciao. Italiana? Italiana, sì, sì, buongiorno. Io parlo un po' italiano, cara. Muy bien. Quello bacalà, è polpettino di bacalà che mi fa la nonna. Ah, polpettine di bacalà. È tutto caldo, buonissimo. Ok, ok. A piccolo, medio, grosso. Ok. Ti piace dopo, io sono qui. Dopo allora, veniamo. A che ora chiude il mercato? Era 8, cara. Uff. Questo è il mercato tutto il giorno. Tutto il giorno, perfetto. La mattina è 8 dalla sera. Perfetto, grazie. Grazie. Qui il mercato della frutta. Coloratissima, bellissima. Qui sono le quessadilla, molto buone. Agli spinaci, alla caprese. Molto buone. Hola. Hola. E' dei sago? Grazie.